. Una Bundesliga vinta a mani basse e la semifinale di Champions League con la sconfitta dell'andata all'Allianz Arena contro il Real Madrid. I bavaresi come sempre hanno dominato il campionato ed il vero obiettivo è quello in campo europeo, intanto il tecnico si concede di far giocare qualche riserva come Sandro Wagner che sta facendo bene nel tentativo di arrivare a giocarsi il prossimo mondiale con la Germania. Una partita molto importante non solo per le Intra, Francoforte ma anche per il tecnico Nico Kofek. L'allenatore croato sarà protagonista all'Allianz Arena per l'ultima volta come avversario visto che il prossimo anno sarà sulla panchina del Bayern Monaco. Sta facendo molto bene a Francoforte con l'Europa Liga a portata di mano anche se qualche ultimo risultato ha un po' tarpato le ali alle Intra. Si parte da Kevin Prince Boateng. L'ex Milan è uno dei punti fermi della squadra di Kofek che sta provando a fare di tutto per il grande obiettivo stagionale magari raggiungendo un successo di Platino a Monaco di Baviera.tv e streaming Bayern Monaco e Intra. Francoforte, gara valida per la 32esima giornata di Bundesliga, sarà trasmessa sulla piattaforma online a pagamento di Sky, sul canale Sky Sports Plus. Bayern Monaco e Intra. Francoforte è visibile in streaming. Leggi come fare per vedere il calcio in streaming o accedi ora per utilizzare il servizio di live streaming. È necessario registrarsi in due minuti e avere un account con saldo positivo bastano pochi euro. Esempio versi 10 euro scommetti due sul match e guardi la partita, 5 partite a 10 euro non è male. Con la possibilità anche di rifarseli subito o di aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore minimo 2 euro. Se sei da mobile guarda in alto dove ci sono i simboli degli sport scorrendo verso destra trovi un'icona che si chiama Diario Live, clicca quella ed entra nel palinsesto del giorno. Il gioco è vietato ai minori di anni 18. Termini e condizioni si applicano sul sito di Bet365. Le probabili formazioni di Bayern Monaco e Intra. Francoforte Bayern Monaco 4141 Ugaric, Rafinha, Mai, Boateng, Alaba, Sule, Roden, Rudi, Rodriguez, Thiago Alcantara, Wagner. Intra. Francoforte Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori.